Siamo veramente honore e assolutamente felici di avere questa opportunità, grazie alla Autorità Generale di Saudi Arabia. È un'opportunità fantastica per il nostro fútbol. Siamo sperimenti che sia un evento straordinario, un'assolutamente un'ottimitante show per tutte le persone che attendono direttamente il stadio ma anche per la visione mondiale di TV. Siamo sperimenti che sia un'ottimitante modo di promuovere il nostro fútbol all'interno. In questo caso, la prossima edizione della Super Cup, sarà giocato da Juventus e di Milena, che sono due dei club più gloriosi, non solo in Italia ma anche nel mondo. Abbiamo già giocato questo evento neve volte nel passato, quindi questa è la trenta volta che la Super Cup sarà giocata in Italia. Abbiamo giocato questo in tre diverse continenti, quindi siamo assolutamente felici di dare questa opportunità ai nostri fãni allo stesso mondo. Siamo che Saudi Arabia è un paese dove le persone seguono il fútbol e con passione, con amore per i nostri eroi, i nostri giocatori, i nostri giocatori. E così, speriamo di essere capiti a rilascizare tutte le aspettazioni di queste persone. Sì, speriamo di essere capiti a rilascizare tutti i nostri giocatori.